Siamo nella sala dedicata agli indiani del Nord America e questa è la vetrina delle culture del sud ovest e della California. Vi mostro degli oggetti particolari. Abbiamo queste mattonelle che si chiamano opi tiles o mattonelle degli opi. Su queste mattonelle sono raffigurati gli spiriti cazzinam che sono spiriti adiutori intermediari tra l'umano e il divino e vengono invocati per favorire l'arrivo delle piogge indispensabili a irrorare quelle terre riarse dal sole. Su questa mattonella è raffigurato uno spirito maschile chiamato Shalako Taka. Vedete porta un copricapo rettangolare sul quale sono raffigurate le nuvole. Sono queste strutture a forma di piramide metà rosse e metà nere. La parte rossa simboleggia la pioggia gentile, quella che cade lentamente e che irrora profondamente il terreno, mentre la parte nera rappresenta la pioggia violenta, i temporali. Vi mostro ora una seconda mattonella, più rara perché esagonale. Questa mattonella rappresenta uno spirito femminile, si chiama Palikmana, significa la grande bevitrice d'acqua. Vedete che in entrambe le mattonelle abbiamo raffigurate delle pannocchie che pendono dai copricapi degli spiriti. Sono le pannocchie di grano turco che sono il cibo di base, il cibo fondamentale delle popolazioni opi. Ancora oggi gli opi dell'Arizona producono queste mattonelle utilizzando vari tipi di creta locale e pigmenti naturali. Le mattonelle vengono normalmente appese all'interno delle abitazioni proprio per richiamare sempre l'attenzione degli spiriti sulla necessità di pioggia dei loro territori. Vedete che questa porta ancora i fori di sospensione, quindi prima di arrivare in questo museo, cosa che è avvenuta nel 1925, questa mattonella è stata utilizzata in un'abitazione opi.